Musica Piazza Affari archivia la seduta odierna con il Fuzzi Mib in calo dell'1,18%. L'All Share cede l'1,11%. Spread BTP Bund in area 156 punti base. Brilla Monte dei Paschi di Siena più 3,13%. Bene anche Iox più 2,11% e Telecom Italia più 0,9%. Avanza Unipol Sai più 0,66% ed STM più 0,23%. Profondo Rosso per Banco Popolare meno 4,82%. Moncler meno 2,64% e UbiBanca meno 2,43%. Oltre a Pirelli che lascia sul terreno il 2,4%. Tra le europee Debole e Londra con l'indice Fuzzi 100 in calo dello 0,11%. Inflessione Parigi meno 0,74%. Male anche Francoforte con il Dax che lascia sul terreno lo 0,58%. Leggero ribasso per l'Ibex di Madrid che si ferma meno 0,13%. Cambia a Pirelli che si ferma meno 0,85% ed Fuzzi 100. Dobbια ègneri per Pirelli che si ferma meno 0,58.